Non finisce qui per l'Agnone. Dopo la vittoria nell'ultima giornata di campionato e i risultati maturati sugli altri campi, la speranza di rimanere in Serie D è più viva che mai. Contro il Chieti vince per 3-0, ma vince soprattutto l'orgoglio Granata, che è nel DNA di questa squadra, che non si è mai data per vinta. E lo ha dimostrato con questo ultimo match giocato con il coltello tra i denti, la grinta e la determinazione necessarie. Ma andiamo alla cronaca dell'incontro. Primo squillo lo registriamo all'ottavo minuto con Ibe, che ha un'ottima opportunità da buona posizione, ma il portiere ospite riesce a intercettare la palla. Un minuto dopo la svolta, è proprio Ibe che spizza di testa per Pagliuca e il numero 7 Granata insacca in rete per l'1-0. Al sedicesimo il Chieti reclama un rigore, per un contrasto in aria tra Ibe e Broso, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al ventunesimo l'assist di Ricamato è perfetto per Faggiano e lui, perfettamente, trafigge la rete abruzzese per il 2-0. Ai padroni di casa però non basta e Di Lullo al ventottesimo ci prova su punizione, ma va un filo alto sulla traversa. Il Chieti lo vediamo solo al quarantesimo, con un insidioso sinistro da limite dell'area di Orlando, che sfiora l'incrocio dei pali. Sul doppio vantaggio Granata, dunque, si va negli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'Agnone è bravo a non perdere la concentrazione, il Chieti tenta di alzare la testa, ma con poco successo. Al sedicesimo sciupa tutto del grosso con un calcio piazzato da buona posizione, non inquadrando lo specchio della porta. Un minuto dopo è Ricamato, che manda al lato con un tiro dalla distanza. Al ventisettesimo c'è Ibe sulla palla, disturbato dagli avversari, tenta il colpaccio dal cuore dell'area, ma la palla termina sul fondo. Al trentaquattresimo ecco di nuovo il Chieti, con uno dei suoi pochissimi esploat. Combroso, che ci prova di testa, ma Biasella, para con relativa facilità. Al quarantesimo ecco Vincenzo Ricamato, che con un pallonetto gonfia ancora la rete abruzzese per il 3-0 finale. Finisce così dunque il Civitelle. E mentre per il Chieti è già stato tutto ben definito, il finale di questo campionato per l'Olimpia agnonese è ancora da scrivere.